Grazie a tutti i nostri spettatori, benvenuti a il mio programma di Zonò Semanario. Oggi assisto a informazioni importanti di Conobà Timor-Leste e che succede durante la Semana di Anè. Grazie a tutti i nostri spettatori di Conobà. Grazie a tutti i nostri spettatori di Conobà. Grazie a tutti i nostri spettatori di Conobà. Grazie. Grazie a tutti i nostri spettatori di Conobà. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. ... 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 ...... ... 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 Grazie a tutti, ma che il professor Ballon sia difficile attacchare l'alliamo portoghese, ma è il Ministro di Educazione e Juventù del Esporto. Esforzo nella fatta che discapacita il professor Sirà. Il professor Ballon sia difficoltà di scuola in portoghese, ma è il Ministro di Educazione e Juventù del Esporto, ha l'esforzo ma cazza, attuare a livello di qualità del professor Sirà. Alliamo portoghese, attuare a formazione, attuare a progetto CAFE e a progetto CAFE, e a progetto CAFE, e a progetto CAFE, e a progetto Sanolo, Recinrua, incluindo Ecusi, che attacchare l'alliamo portoghese, l'alliamo portoghese, attuare l'alliamo portoghese, e abbiamo un progetto pro-portoghese, in cui i professori portoghese, ma è la capacità e attuare a scuola di sicurezza che sia attuare l'alliamo portoghese, attuare il portoghese, attuare questa qualità della stessa in formazione portoghese. Professori Sirà, in cui si partecipano alla competizione nella vostra stagione nella municipia aileu, ainaràù, Bobonarù, Baucao, Dili, Ermera, Manatutto, Viqueca e Norraiawà, Aderito Simenis e Giane. Grazie. Grazie a tutti. 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 E a tutti.